Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro Andate anche voi nella vigna quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero Perché nessuno ci ha presi a giornata ed egli disse loro Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore Chiama i lavoratori e dai loro la paga cominciando dagli ultimi fino ai primi Venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro Quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse Amico Io non ti faccio torto Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi Parola del Signore Un'altra parabola propria solo di Matteo ascoltiamo in questa domenica la parabola dei vignaioli che vengono chiamati in ore diverse a lavorare nella vigna Era una scena molto comune ai tempi di Gesù e cioè i grandi padroni latifondisti quindi i proprietari terrieri ricchi al mattino spesso andavano in piazza e all'alba e prendevano gli operai a giornata pagandoli un denaro era proprio il costo diciamo così di una di otto ore o dieci ore anche di lavoro con cui si sfamava una famiglia per un giorno e quindi questa questa scena è una scena comunissima la cosa strana come in ogni parabola appunto dicevamo ci sono elementi strani è questo padrone che esce non solo all'alba ma poi alle nove ma poi a mezzogiorno ma poi alle tre e addirittura alle cinque del pomeriggio cioè quando la giornata lavorativa ormai volgeva il termine perché verso le sei si finiva e infatti diranno questi hanno lavorato un'ora sola ecco questa parabola veramente funziona come funzionavano al tempo le parabole di Gesù cioè ancora in chi l'ascolta genera un certo disagio perché il padrone dà a tutti la stessa paga e noi diciamo caspita ma non è giusto questi hanno lavorato 8-10 ore queste altre un'ora sola diciamo il sindacalista che è in noi si ribella a questa cosa per cui veniamo invitati come dovrebbe fare ogni parabola a domandarci ma che cosa vuol dire che cosa vuol dire questa parabola è molto importante quello che risponde il padrone alle obiezioni dei lavoratori amico io non ti faccio torto avevamo concordato per un denaro quindi io rispetto la parola data ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te non posso fare delle mie cose quello che voglio oppure sei invidioso perché io sono buono ecco questo credo che sia la chiave tu sei invidioso perché io sono buono cioè alla fine credo che cosa ci dice questa parabola Dio vuole salvare tutti quelli che sono con lui fin dall'alba della vita quelli che sono entrati nella sua vigna solo all'ultimo respiro della vita e noi diciamo caspita ma non è giusto che ci sia in paradiso anzi il primo che è entrato in paradiso è il buon ladrone che ormai non aveva decisamente più tempo per riparare ma che cosa guarda Dio Dio non è un capufficio e non è neanche un datore di lavoro che guarda il fatturato della nostra vita delle nostre opere buone Dio è un padre che guarda il cuore dei suoi figli e se il suo figlio che magari è stato un delinquente tutta la vita solo all'ultimo si rende conto del cuore del padre solo all'ultimo accoglie il suo amore e se ne dispiace di aver magari sprecato la vita ecco quello al padre basta a questo padrone basta quella semplice apertura di cuore come il Signore come dire vuole dare anche a Lui ciò che serve per vivere il denaro un denaro no? ciò che serve per portare avanti la vita così il Signore vuole dare a tutti la sua vita il suo amore la sua gioia basta aprire il cuore se poi ha avuto la fortuna come è successo anche a me di avere questo incontro fin da bambino e cercare di così rispondere al suo amore fin da piccolo questo è un privilegio una gioia una grazia se invece ti è successo solo all'ultimo o dopo molti anni non è un problema perché come dice appunto il Vangelo gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi e certe volte proprio noi diciamo così che siamo cresciuti i polli di allevamento come li chiamavamo in seminario fin dall'alba della vita a volte rischiamo davvero di abituarci di dare tutto per scontato di non essere dei lavoratori della vigna del Signore molto efficaci oggi a Pesaro non si legge questo Vangelo perché è la solennità di Sant'Erenzio il Patrono leggeremo il Vangelo dei pastori dei martiri come è stato lui e festeggeremo il nostro Padre nella fede la nostra radice e chiediamo a Terenzio che ha portato il Vangelo nelle nostre terre che questa radice che il suo sacrificio e il suo apostolato ancora oggi fruttifichi attraverso la sua comunità affidiamo a lui la nostra Chiesa di Pesaro a Terenzio 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 a Terenzio